A 18 anni si è trasformato in uno stalker, lei una donna matura di 40 che vede sfumare gli anni, lui un adolescente che sta diventando adulto, una storia vissuta nell'atmosfera romantica e decadente della Venezia del terzo millennio, un cocktail effervescente che potrebbe ispirare molti scrittori e registi ma che per il momento ha soltanto dato lavoro a carabinieri e polizia. Almeno da parte di lei dopo un anno la passione è finita e il Toy Boys è diventato un incubo, una decisione unilaterale che lui non ha accettato e per settimane ha perseguitato la sua ex amante con minacce e telefonata ad ogni ora, tanto da spingere la donna a segnalare il suo calvario ai carabinieri. I militari del nucleonatanti lo hanno diffidato ma non è bastato e lunedì l'apice. Il ragazzo ha fatto irruzione nel negozio della vittima mettendolo al suo quadro, di più cercando di devastarlo, una furia incontenibile che si è sopita a fatica anche dopo l'arrivo delle volanti lagunari. Il diciottenne è stato quindi bloccato e portato in questura dove è scattato l'arresto.